Bello ragazzi Pirone bentornati in questo nuovo video, oggi signori siamo qui con il primo video dedicato ai rewards del FUT Champions Prima weekend league dell'anno e... Incredibilmente mi verrebbe da dire abbiamo fatto 28 su 30 Non so effettivamente come mi sia riuscito anche perché è il mio record di sempre della VL alla prima settimana L'anno scorso tutto l'anno ho fatto 2.27, uno era un 27.2 che poteva essere un ipotetico 28 Però a partire con 28 ho detto ok Lasciando perdere tutte le varie robe o le spiegazioni di come siamo riusciti a farcelo perché veramente è stata un'agonia e non ricapiterà mai Infatti mo' punterò a fare il mio buon 23 settimanale se tutto va bene e se capita poi ripunteremo a fare qualcosa di altro Però rimane una soddisfazione personale il fatto di avere dei buoni pacchi da farvi vedere oggi Oltre ai miei ci saranno anche quelli di altri ragazzi come sapete mi metto tutto il best of di tutto il pack opening che facciamo giovedì Come sempre abbiamo fatto anche l'anno scorso Vi richiederei un bel like per questo primo pack opening dei rewards per festeggiare assieme il fatto di aver fatto Elite One Non penso di migliorarlo mai perché a doversi migliorare questo punteggio facciamo top 100 Quindi ok un sogno però infattibile secondo me E niente buona visione ragazzi e divertitemi Ciao ciao raga Ciao Deo Sì ma regà io ho visto un po' di puzza oggi all around Non abbiamo aperto ancora in combo noi Hai evocato il boss finale Il boss finale ho preso oggi apposta per la roba La crema della crema Esatto Allora Fazzone mi va coi pacchi e già con i pick Il buco io i pick Va bene I pick non li filo Allora Son si mette a TT Rashford si butta con Asad Si prende Mbappé e Neymar Perfetto Io direi che potremmo fare for the show le rivali Tanto abbiamo i pacchi del resto Che dici? Untradable Ma che cazzo Ma tanto lo troviamo qua Neymar e Mbappé Qual è il problema? Va bene Prende la pedra Oh che bello regà Bello Teo Elite One Quanto sei fresco Che bello Quanti sono? Sono 125.000 crediti Che sono già boni Due pacchi da 100.000 Due da tre if E tre picchette Che giocatore incredibile Già strano Ah i picchetti subito Ma mamma mia Tanto non me ne faccio niente di sti rossi zii Giusto per dire di trovare qualcuno di carino For the show Vediamo un po' Troviamo qualcosa For the show Stup Beh for the show È alto 1.80 E non è 91 Ma è un armadio Ma io lo metto a titolare fra Ma te lo passo Ma questo è letale Tipo Itaimovic Madre che schifo Prendiamo Adama Ma è giusto perché c'è 97 di velocità Che schifo Vabbè prendi Lasci il lava Mamma Ezza Vabbè guai però Rossi di merda I boss finali I boss finali Stup Mamma mia Che schifo Vabbè te vi ho palluà L'uomo che tanto desidera No voglio mollè Vabbè sta caricando i pacche Che schifo dai No frappameli guardare due secondi No 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 Che più li guardi più sali l'angoscia Teo Cioè il mio l'ho fatto davvero così Zanno mantello così Fammi apri un pacco Vabbè partiamo con la merda Il malessere Oh bandiera al primo Boni Non scambiabile Bono Francia Bono S Bono Man Ottimo per le Sfide e creazione rosa Questa era buona Trovarlo mezzo scambiabile E' una 24.000 Settimana prossima Io faccio oro 1 Ci sta Non è uoio Io troverò un workout almeno nei premi di fuoriclasse 1 Va su e giù la ballerina della bellissima connessione Ma questo perché è 80 Ogni tanto può zaggare raga sono in share play Può capitare No No Non è così Non è così Ce l'ha già scambiato Ce l'ha già scambiato Ce l'ha già scambiato Non è così Quanta gamba Dai ridi Sì è il momento giusto per ridere questo Che palla scartassissimo Alla chi sarà Una settimana di grande fatica Un momento di gloria così grande rovinato da Workout Workout Bono Mani Di te Vabbè Vabbè dai 89 Eh Vola dritto nell'SBC Delle Icons Qui al volo Vabbè dai 89 Niente male dai Dato Sissuco Ah Dunk Non belè Bono Oh Dio Non l'ho visto Andanovic Fra Frate Oh questo è un pacchetto Non bello solido What a pacco Questo sì Questo sì Questo è solido Sto pacco è insano Mamma mia Lulic 71 Scartali tutti questi Buca il fazione in share play Dai E no me lo devi mettere in mezzo al pacco Perché fai quello Quello Oh Dio Non mi spoilerate Non mi spoilerate No Cioè sì Va bene Va bene Ma cazzo ho visto Brasile Ragazzi Ma so bene Sotto c'è roba Sotto c'è Non bello Oh Matip Allison Matip è da rivendere Ho visto Brasile Ho detto Neymar Eee Ma sempre Vediamo un po' che cosa esce da questi Però Pacchetto premium Team of the Primo hit Se trovi walkout è proprio tanto Ed walkout Oddio Francia Peccato 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 Plea Ezzo Oddio mio Togliere anche quest'altro e poi apriamo l'ultimo 100k per l'altro Anche Teo Hernandez non è male capito? Eh Teo Hernandez potrebbe essere ciò Vediamo Non è neanche walkout Non è neanche walkout Deve vende Roma perché si sta abbassando No no Hernandez sotto No il malessere Il malessere Il malessere 82 Magari se c'è Teo Hernandez sotto Ok Se no niente Mamma mia Voglio morire Mi devi mettere denso Vai Fazzo Vai Ci crediamo Teo Dai È walkout Francia A ti Benzema Ma come benzema Benzema è a ti Ma che cazzo guardi che benzema è a ti Ma no pensavo Yeah Il boss finale del bait Ma non voglio spararmi in gola sotto dai qualcosina Ah quagliarella Oh dai Oh io dai Un walkout su qua Io ho mantellato molto peggio Doppio walkout in un fracere Grossi ho mantellato No vabbè ci sta Ci sta Abbiamo fucking Bob Machine Roby Bobby Elite One Ora vediamo chi dei due ha avuto più fortuna Crolliamo il primo Questo qua è già di bala È fatto Ah Berguin e Giorginio Lea E Radeki Perché a me non ha dato neanche un 84 in questi A me è stato lo sbocco Collabori con Lea Esatto Lea Lea Ora effettivamente entriamo nel vivo dell'azione Non è walkout Incredibile Anche italiano Portiere Sirigu Treif Non è 84 più Però potrebbe essere E Teo Hernandez Nooo Nooo Palla La palla Madonna La persecuzione Però c'è ancora la possibilità di trovare Teo Hernandez Eeeh Nooo Roby siamo a due pacchi dal suicidio di gruppo con me Un walkout Per un cazzo di fuori classe 1 È buono Tedesco Tedesco Oddio Kimmich Non ci credo È buono C'è sempre un lieto fine a tutto questo Perché nel pacco tre ife troveremo Paolino Di Bala Ci sono 100k per forza Altrimenti fare 27 non avrebbe assolutamente logica Almeno un walkouttino qua È walkout Argentina Italia Ciro Nooo Verratti Nooo Giorginio Ma anche peggio Ma Ah 285 Molletta Ti dirò Roby Io con il mio Allison mi sa che ho fatto di più Settimana prossima t'aspetto per loro uno eh Easy Tutti qua presenti A Cimonza del buon Figurigno Ma che squadretta Profumata Compagno di team del nostro caccione Ha fatto fuori classe 1 Quindi Come Roby E come me Quindi vediamo chi dei tre va più culo Penso non avrai grandi rivali In questo perché insomma Oddio Vabbè Radeki Uno dei tre deve Eccolo qua Oh Eh vabbè Vabbè Lo sapevo Hernande Hernande Mi piace questa pazzia Avrei preso Semedo io Però forse essendo sinistro Non te ne faccio in cazzo Verratti ancora Vabbè Hernande Zeradeki Ti avrei pagato per avere questa ricompensa tecnica da parte del videogame Primo pacco da 100.000 Non è walkout Non ci credo Gnabri Gnabri che comunque un po' se vende Oh delle alli Toli so Pacco 3 if Primo pacco 3 if Non è walkout Teo Hernande Zosemedo E dunque Dank Come cazzo si chiama Dank Molletta E Kozak Dai Illuminami No ma ancora senza walkout Brasile Cici Paulinho Se qua non trova niente È Inutile Fare Fuoriclasse 1 Ne abbiamo aperti tre oggi Di fuoriclasse 1 È walkout Zeradeki Zeradecki Zeradecki sarebbe Zeradecki Vabbè Bergwin Ti dirò Unlucky Ma Mi sa che è il fuoriclasse 1 Serve fare Top 10 Quindi in bocca al lupo per settimana prossima Simo Allora Almeno i pick erano buoni Anche su FIFA 20 Torniamo qui Anche col caccione Compagno di squadra di Figurigno A Cimonza Esports Attenzione Link in descrizione Per andare a vedere Caccia che vince Le qualifiche Della Di sabato Ecco Easy Tu for the show Sei in divisione 1 Livello 1 Prendo pure i nostri cambiabili Quando sabato c'è la qualifica Pensa un po' Tu sei veramente Tu sei veramente un uomo Con le palle d'acciaio Fra Ci sta Ci sta Posso dirlo una volta nella vita Hai fatto meno di me Ah La pugnalata Vabbè L'abbiamo Quello è dei pezzi Comunque È sempre così È sempre così La storia Sì no Comunque è vero Dalla prossima io faccio 23 Lui fa 30-0 Però Il momento di gloria Ho dovuto averlo Trovi uno che Al primo pick Ti trova di bala Ce l'hai uno che Al primo pick Ti trova di bala Non ce l'hai Beh Infatti Non ce l'ho Eh dove lo metto Non tira Non c'è passaggio Non difende Corre solo Non c'era di bala nel primo Ma c'è di bala nel terzo È Uguale Allora non c'era di bala nel primo Non c'era di bala nel terzo Ma avremo Nelson Semedo Nel Centrale Bravo E invece Ci da Stiamo facendo a gara oggi Vabbè però Qua abbiamo il contenuto Fra Beh magari trovi Mbappeo Neymar Eh E' Walcott Spagna Sbc Potenta 89 Come on Volcata Ancora Spagna Portia De Gea De Gea Vai sta E' buona Oh Davide Adesso ne sai Non si sa mai Buona avercelo lì Cosa sta facendo Oh è felicissimo Unif Marez Coman Fraso 50k Easy Scabbia Scabbia Spero te Hernandes Speri Hernandes Per me questo è Radeschi Che cazzo è Radeschi Ne hai trovati talmente tanti Per dire No 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 Partiamo così Abbassiamo le aspettative È walk out Mannaggia a te SIII Fa Vai a fare nel culo Va Vai a fare nel culo Guardalo No no Faglielo vedere Paolo Arriva per ultimo Lo aspettiamo per sedici anni Fa tutto lo gnarri E sbanca il mondo Piglia porta a casa È stato bello e se ne va Sai questo uomo? Che lo butti? 30.000 Ma che squadra c'ha qua? Gli serve Dibala Dove lo mettiamo? Al posto di Neymar? Questa è di Balena Pack nel titolo È stato un piacere Bella Diciamo che è stata un'attesa World Per il contenuto Aspettate fino alle 8 di sera Oro One Secondo picchetto Madre di Dio Oh è Walcott Sono alto Teo ti amo Teo ti amo Teo ti amo Lascio il microfono mutato Perché faccio un casino incredibile Brava Vaffaculo E io rosico come un porco ragazzi Come un porco sto rosicando Ah è inoscambiabile ma ce l'ha già Forse a giugno Arrivano e dicono Ma Ti diamo Messi e Ronaldo Tanto il gioco è finito Almeno sei contento no? A giugno Fino a giugno io farò cose E non troverò niente Cheg consumption E un cuore Cheg29 Ciao